Roma incontra protagonisti e fatti della grande attualità un programma ideato e condotto da Enrico Cisnetto Buonasera, buonasera, bentornati bentornati a Roma incontra allora mancano pochi giorni meno male perché non se ne ponteva più è da aprile che non si parla d'altro del referendum sembra che da questo voto dipenda il presente e il futuro dell'Italia invece più banalmente dipendono le sorti di qualcuno e di chi avversa quel qualcuno è una partita a somma negativa perché quando ci ritroveremo qui lunedì prossimo il giorno dopo del referendum i problemi di questo benedetto paese quelli strutturali, quelli che ci portiamo dietro da decenni che per mistificazione, per rimozione collettiva fingiamo che non esistono o peggio raccontiamo di averli già risolti ecco, quei problemi, questi problemi il 5 dicembre saranno ancora qui tali e quali, anzi più gravi di prima no, il mio non è qualunquismo sapete che ho molti difetti ma non questo certo amo andare controcorrente sono sempre stato un minoritario pensate che quando ero ragazzo era poco dopo il 68 i miei coetanei facevano tutti gli extraparlamentari di sinistra ho scoperto la politica quella con la P maiuscola attraverso un grande uomo, Ulamalfa lo chiamavano Cassandra perché preferiva guardare in faccia i problemi evitando di nascondere gli occhi degli italiani ha avuto quasi sempre ragione le sue preoccupazioni si sono rivelate più che fondate ora io non ho la presunzione di essere il vecchio Ulamalfa e nemmeno la pretesa di dirvi come votare domenica tuttavia mi permetto di sollecitarvi tre riflessioni la prima comunque vada sono ben altri i nodi da sciogliere e non sarà la prevalenza del sì o del no che potrà allentarli i nodi del nostro declino la seconda se non avete chiaro lo specifico e i dettagli delle riforme oggetto del referendum non cadete nell'errore di credere che una riforma valga l'altra e che una qualunque riforma sia meglio dello statu quo insomma nessun cambiamento pur che sia votate a favore se siete convinti terza e ultima riflessione se con il voto faticando ad entrare nel merito volete invece esprimere un giudizio politico generale fatelo guardando a quel che è stato fin qui compresa la decisione di tenere bloccato il paese per un anno sui tali come referendum e non vi fate infinocchiare dai fantasiosi pronostici di quel che accadrà nell'uno o nell'altro caso perché in entrambi i casi non succederà niente di decisivo per via del referendum e ora fatemi presentare il re dei Bastian Contrari autore di un libro per chiare lettere che si chiama Mio nipote nella giungla tutto ciò che lo attende nel caso fosse onesto Oliviero Bea Eccolo qua Allora non c'è bisogno di presentazione giornalista, scrittore, saggista, conduttore televisivo, radio foe una cosa è certa tutte le volte che fa qualcosa rompe le scatole a qualcuno il quale naturalmente non se ne sta e reagisce e questo però è il motivo per cui a me Bea piace e siamo insieme iscritti al partito dei Bastian Contrari ha scritto molti libri l'ultimo è forse un po' diverso dai precedenti è un libro in cui parli a un tuo nipote intanto esiste il nipote? Perbacco esiste Biondiccio quanti anni ha? Dunque oggi è il 28 e quindi compie 21 mesi Ah quindi siamo qua E allora hai scritto sto libro per dire che quando crescerà un po' per adesso è protetto diciamo ma quando crescerà un po' potrà essere il novello Mogli a cui nessuna pantera baghiera il riferimento è al libro della giungla potrà in qualche modo proteggere diciamo difendere allora intanto perché proprio nella giungla dove andrà a cascare questo povero bambino e quale dovrebbe essere avrebbe dovuto essere la pantera che poteva beh guarda nella premessa che io ho sentito da dietro come succede le vecchie regole del teatro c'è già la risposta nella tua premessa di stasera c'è già in parte la risposta alla tua domanda beh perché è una giungla ma è una giungla esteriore nel senso che non ci si capisce più nulla referendum o no insomma per capirci e non è soltanto un problema italiano io credo che in Italia abbiamo acuito i problemi per una mancanza di identità per una generale regressione soprattutto culturale perché ci siamo fatti fregare ingannare dal tenore di vita facendolo passare per stile di vita sono due cose diverse e quindi voglio dire acquendoli i problemi li vediamo ci sbattono addosso appunto prima del 4 e dopo il 4 quindi da questo punto di vista la giungla esteriore è quella che vediamo tutti i giorni e io ho cercato di fare una ricognizione il più cruda e chiara possibile di questa giungla ma c'è un altro problemuccio che di solito dimentichiamo c'è anche una giungla interiore Enrico cioè noi ormai viviamo all'esterno soprattutto le nuove generazioni vivono all'esterno non all'interno di se stessi al punto che al loro interno si crea una sorta di giungla lo vediamo dalla cronaca lo vediamo dallo spessore delle loro personalità faccio un discorso generale con tutti i rischi della generalizzazione naturalmente e allora vedere questo bambinetto sai sono fasi della vita perché io ho figli ho molti figli ma quando avevo i figli ero ancora ammiccavo almeno in parte alla mia immortalità pensavo ancora di essere vagamente immortale e adesso che diciamo che sia pure in un mondo in cui si vive di sole scommesse non scommetterei sulla mia immortalità e devo pensare a che cosa succede dopo e non c'è niente come un bambinetto figlio di tua figlia che ti dà l'idea che il mondo comunque continua siccome sto per diventare nonno capisci cosa voglio dire te lo confermerò a gennaio ma insomma credo di aver capito cosa tu intenda però nel libro per quello che ho detto che è un po' diverso dagli altri al di là della formula che hai usato è che tutto sommato ci ho trovato dentro anche una una qualche speranza per il futuro che non dico che che mi abbia stupito perché tu io rifiuto l'etichetta di pessimista e ottimista dico che il pessimismo e l'ottimismo sono due forzature della realtà quello che conta è essere realisti cioè guardare in faccia le cose però certamente se guardi in faccia le cose oggi è un po' difficile che ne venga fuori un quadro rose tutto sommato invece dentro ci ho trovato degli elementi di speranza allora io non so se è l'amor di nonno che ti ha in qualche modo corretto la mano rispetto ad altri momenti in cui eri più più crudo intanto sono d'accordissimo che il derby pessimisti ottimisti è una faccenda da neurochimismo personale da amigdala se hai mangiato bene o male cose di questo genere quindi è una perdita di tempo discutere in questi termini mentre invece essere realista con tutte le conseguenze poi del proprio realismo è un'altra cosa sì in un certo senso hai ragione lo ammetto candidamente già questa ammissione è di tipo come dire ottimista o positivo positivista poi mettiamolo positivista ecco il bambino che comunque razza per casa adesso non per casa mia perché sta a casa dei genitori ma insomma è una una sensazione fisica psicofisica del futuro cioè un conto è parlare del futuro in termini sociologicamente io ho anche motivi nel modo in cui te lo raffiguri d'altro conto è un bambinetto e dice sì è banale perché è un bambinetto come tutti gli altri naturalmente però è biologicamente il segno del è la trasmissione di qualche cosa concretamente queste speranze o questa positività a quale chiodo l'hai attaccata? allora l'ho attaccata al fatto intanto che è indispensabile non fornisco ricette non faccio farmacista e vabbè ne a proposito di ricette te la prendi anche con la sindrome da cucina per mangiare sì sono stato molto lineare dovendo parlare a un bambino sia pure idealmente metaforicamente ho cominciato un bambino di un anno un anno e mezzo che fa la prima cosa che importa per lui è la salute e quindi ho cominciato a trattare che cosa si intenda oggi per salute e il mio primo capitolo è dopo un prologo così generale ma non generico è che siamo ostaggi tra la salute e la sanità e spiego perché siamo ostaggi tra la salute e la sanità la seconda cosa è l'alimentazione il bambino ha fame noi abbiamo fame adesso sembra che sia un mondo che senza tutte queste speculazioni queste università degli chef sembra che non viva più fino all'altro ieri come campavamo quindi voglio dire e poi la terza cosa entriamo nel diciamo in profondità più che nel libro diciamo nel mio modo di sentire che io cerco di comunicare la terza cosa è la parola il bambino comincia a parlare adesso per esempio dice no adesso non vi voglio fornire il repertorio ma ecco comunque è il solito diciamo e questo mi permette di dire che noi l'abbiamo massacrata la parola noi abbiamo massacrato la parola la parola parlata la parola scritta e soprattutto per certi versi la parola pensata questo è un paese ma anche un mondo che non pensa più che non c'ha tempo per pensare siccome si pensa per parole oltre che per immagini il massacro è intellettuale questo mondo sta diventando stupido diceva tanti anni fa un saggio francese che insomma che ha scritto di tutto sull'anno zero della scrittura un semiologo importante diceva che si è è un'epoca all'epoca negli anni 50 Roland Barthes che ha scritto Mitidoggi e tante altre cose diceva questo è un mondo che è scientifico perché non sa più essere sottile allora io perfeziono dal mio punto di vista o aggiorno se vuoi forse più corretto il discorso dicendo che questo è un mondo che è tecnologico perché non sa più essere intelligente cioè e quindi per il piccoletto si è preoccupato oggettivamente c'è una tecnologia come surrogato dell'intelligenza siamo passati dall'uomo uomo uomo macchina macchina uomo nel rapporto di forza senti proviamo a capire anche dal punto di vista un pochettino più generale perché non ti ho detto però perché al di là del bambinetto che razzola perché c'è come dire una parvenza di se non di ottimismo comunque intanto chiarisco alla fine che non ci sono finali a sorpresa no finali finali dolcificanti diciamo così perché se no si sentono tutti che ne so Armstrong Wonderful World e finisce così la vita non è un film non è un opera teatrale che deve finire bene non è un libro che deve finire bene diciamo che per quel che riguarda le nuove generazioni io credo che succederà qualcosa e cioè mancando è un paradosso perché può essere che dal male nasca il bene e cioè manca la memoria la mia e la generazione immediatamente successiva la nostra è senza memoria questo è uno dei problemi enormi di questo paese ma del pianeta ma rimaniamo al nostro paese non avendo memoria dimenticandosi quello che è successo ieri e l'altro ieri non ha senso del presente dell'identità e quindi non può prefigurarsi il futuro è un buco è un eterno istante insomma l'istantaneità è elevata a potenza e in che cosa consisterebbe il cambio di paradigma il paradosso è che comunque rimane una memoria nella generazione che è successiva alla nostra rimane una memoria del confronto spesso la nostra generazione è stata usata dai figli come dei banco Matt no? dice almeno non mi dai niente di tempo poco i sentimenti poco l'attenzione dammi qualche soldo insomma questo è il concetto io credo che proprio per la crisi i figli dei figli nel caso saranno costretti a ricominciare a capo e questo secondo me proprio biologicamente e anche culturalmente antropologicamente quindi la generazione di tua nipote è già coinvolta secondo me sarà costretta a fare i conti con se stessa invece che solo come abbiamo fatto noi con i nostri figli e loro con i padri insomma perché poi è la nostra generazione che ha contribuito a ridurre il mondo come è speriamo che tu abbia ragione senti ma guardandola invece dal punto di vista un po' più diciamo di ciò che ci circonda quindi della società tu nel libro dici che abbiamo costruito una società basata sul fondamentalismo che non è solo quello religioso islamico ma è basato sul denaro non è che mi sei diventato bergogliesco diciamo ma c'è anche un capitolo dedicato a se non solo o proprio a Bergoglio un capitolo intitolato le meraviglie della cristianità in cui parlo di tante cose condivisibili sia politicamente senza bisogno di essere compressioni sì no anche perché poi una delle cose che colpisce più di Bergoglio lo si vede anche nelle ultime cose questo è un libro scritto di recente ma non così di recente anche solo per poterlo stampare da precedere Bergoglio e quello che ha detto sull'aborto per esempio insomma Bergoglio fra un po' ci dirà non importa che andiate in chiesa basta che vi comportiate bene cioè voglio dire ci siamo vicini siamo quasi a pass secondo me diciamo succede qualcosa prima che lo dica cioè succede a lui qualcosa prima così non voglio mica menare Gramo sì no per carità facendo le corna però se succederà sapremo che ha ragione perché questo è uno strano paese anche per il Papa questo è un paese in cui giornalisti in giornalisti veri per poter dimostrare di essere tali devono essere messi in condizione di non scrivere i magistrati devono essere fatti fuori o viaggiare sotto scorza anche al gabinetto e i papi devono essere avvelenati se no non c'è gusto per certo senti ma se il denaro è comunque un fondamentalismo che ha pervaso la società possiamo per esempio immaginare che Trump è arrivato alla presidenza perché è ricco oddio anche la Clinton non è che gli mancassero i soldi poi è curioso diciamo chi è addetto ai lavori più o meno in profondità o in superficie sa bene che queste figure sono in realtà dei pupi che hanno dietro dei pupari allora i pupari della Clinton non sono così diversi dei pupari di Trump nonostante tutto e una volta raggiunto il potere i pupari si mettono d'accordo questo succede persino da noi basta vedere come è andata la borsa no no ma poi dopo succede persino da noi con una classe dirigente non solo politica veramente da straccioni tu vuoi che non succeda in America addirittura la cosa paradossale è che dopo tutto quello che è stato detto e scritto da Berlusconi anche da me naturalmente solo che il mio problema come forse ricorderai anche nei miei libri dei primi anni 2000 era però attenzione non basta che salti Berlusconi perché giri l'interruttore questo paese cresca il problema è cambiare stile di vita priorità gerarchie di valori e tutto il resto c'era addirittura un mio libro di 7-8 anni fa prima quindi del famoso colpe nei confronti di Berlusconi il colpe napolitanesco che si intitolava dopo di lui il diluvio quindi voglio dire mi preoccupavo in generale della faccenda pensa che in confronto a Trump Berlusconi è un illuminista del Settecento mi pare qualcosa del genere senti ma se se chi che arriva al potere è Pupo e c'è dietro il costoro il Puparo Renzi è un Pupo e dietro quale Pupari ha? ma la cosa più più semplice perché addirittura manca solo eh sì JP Morgan il potere di un certo tipo la storia degli ultimi 20-30 anni di Giorgio Napolitano insomma tutte cose di cui perlomeno a cena si parla no? soprattutto per chi conosce queste cose però non si dicono mai pubblicamente ecco nel mio libro queste cose le trovate sì sì ma questo sappiamo che non ti sei mai fermato davanti a nulla e le reazioni di quelli ma io ti devo dire la verità Enrico io non ho nessun timore non l'ho mai avuto appunto non essendo più un ragazzino son nonno non lo posso dire con ragione veduta a me mi hanno sempre fregato con la sordina ma io non vedo l'ora di essere contrastato perché se qualcuno mi contrasta e mi dimostra che ho torto io ammetto di aver torto non sono il tipo affezionato alle cose è che ti mettono la sordina cioè ti fanno sparire c'è nel risvolto di una quarta di copertina il fatto che a me mi hanno censurato tutte le trasmissioni che ho fatto potevano andare benissimo alla radio in televisione non gli è mai importato nulla né a destra né a sinistra mi hanno sempre considerato un marziano e quando proprio non rompi i coglioni non marziano no no ma sai il termine rompi i coglioni è così generico mi hanno considerato uno scomodo come fosse una sedia sai il linguaggio da designer uno scomodo uno uno inaffidabile inaffidabile in realtà in questo paese è il sinonimo di irricattabile senti ma a proposito di linguaggi la campagna elettorale questa la metti in cima alla classifica delle peggiori campagne elettorali sì soprattutto perché viene dopo cioè tra scrofa ferita e accozzaglia appunto perché viene dopo cioè questo è peggio delle altre c'è l'effetto cumulo da un lato e dall'altro il vero discorso sul si potrebbe fare sul pianeta ma adesso non ci allarghiamo troppo rimaniamo qui no teniamo i piedi l'Italia l'Italia è da troppo tempo su un piano inclinato essendo il piano inclinato o viene rimesso in asse da tutti e si ricomincia a vivere decentemente oppure siamo destinati a continuare a rotolare per una legge fisica chiunque ci salga declino i più bravi sai cosa fanno puntano i piedi e al massimo stanno fermi questo riguarda un po' anche la risposta al referendum per capirci così in gergo ecco i più bravi stanno fermi in modo da non scendere un pochino più giù ecco io cercherò al referendum di stare fermo e di non andare un pochino più giù ma se no è una legge fisica si rotola vota no ho capito abbiamo capito se no giusto per tanto voto no pensando sì ma non perché sei entusiasta di votare no uno e due perché penso che non freghi niente a nessuno questo è la cosa giusto per curiosità insomma senti ma secondo te soffriamo anche di altri tipi di malattie per esempio questa idea che esista sempre un complotto secondo te è una degenerazione una malattia dunque allora credo che in questo paese perché se no ci rischia che quando fai una denuncia ci fai tanto fa parte del complotto si si capisco cosa vuol dire si annega tutto no naturalmente questo rischio c'è e in più c'è il fatto che questo paese che vive in una parentesi di alibi continua cioè c'è sempre un'altra cosa quando tu stai parlando di quella cosa lì famoso benaltrismo si si ha avuto la sua stagione terminologica è sempre cosa dice vabbè quello non sa fare quello perché quell'altro ho capito ma intanto vediamo quello che sta succedendo non circoscrivendo vedi c'è un doppio errore il primo è quello appunto di inseguire il benaltro no e l'altro errore è quello di circoscrivere il fatto la persona e l'evento ha quella cosa lì senza giustapporla come un mosaico ad altre tessere se tu non giustapponi le tessere del mosaico italiano non capisci un bene amato perché ogni cosa ogni tessera ti viene porta come se fosse il mosaico non è così è una tessera che va acquisisce valore e luce vicino alle altre questa è una cosa da mosaicista che ho provato a fare fin da giovane senti ma a proposito di televisione visto che ne avevamo accennato prima che ti hanno gentilmente ma sì ma c'è una censura ontologica si bianchettato sì ma ti devo dire la verità non è che mi abbiano considerato più brutto che ne so di fazio anche l'estetica vuole la sua parte oppure che mi abbiano considerato più grasso di santoro cose di questo genere no semplicemente ontologicamente io non ero dei loro e questo l'ho pagato ma se uno non è in grado di sopportare questi prezzi è meglio che non è meglio che non si batta nemmeno però l'altro giorno uno che insomma ci capisce che come D'Agostino quello di D'Agospia dice che in fondo la tv è morta che dovremmo mettere in onda internet tu pensi che sia una una forzatura o anche perché io temo che la tv sia morta vabbè ma internet non è che proprio si può rovesciare la faccenda cioè che la tv abbia perso appeal significato e via dicendo e che invece sia più moderna la radio per certi versi è un paradosso ma nemmeno tanto il problema di fondo è che internet è una grandissima cosa ma è una lama senza impugnature non sai come prenderla ti ferisci comunque e quindi internet è rischiosissimo cioè non è soltanto una grande invenzione è una grande invenzione rischiosissima e chi la mitizza probabilmente o non ha capito bene o fa il furbo no perché in internet ci passa di tutto di più ci passano appunto ci passano le sci chimiche ci passano le bufale di ogni genere noi ereditiamo molta parte del modo di vivere americano anche adesso e poi un po' tutti ormai il pianeta si è fatto si è globalizzato in questo senso in modo così esplicito macroscopico e quindi in america cosa sta succedendo che la televisione perde il suo in effetti la vicenda la vicenda ultima ce lo dice ma senti ma tu in televisione guardi qualcosa al di là del calcio ma nemmeno tanto il calcio perché anche il calcio guarda ma sì perché c'è un peggioramento generale cerco di seguire quello che mi interessa devo dire la verità a costo di sembrare non del secolo scorso ma di mille anni fa con la storia del nipote di altre cose ho cominciato a pensare che forse dare un'occhiata dentro fosse meglio insomma un via introspettivo senti ma ma se il pallone quanto meno quello italiano non so gli altri è bucato chi è che chi è che ha diciamo l'ha bucato l'ha bucato chi è che aveva il pugnale in mano fondamentalmente il denaro il fondamentalismo del denaro di cui parlo come poi dopo documentando naturalmente questo discorso perché se no detto così sembra da barra e basta invece è articolato credo il discorso nel libro c'è questo fondamentalismo del denaro che ha montato i valori gli stili di vita e ha esternalizzato bruttissima parola ma insomma ha buttato fuori ha gettato verso l'esterno tutto quello che invece noi potremmo anche vivere all'interno la giungla lo ripeto non è solo quella che vediamo fuori è quella che abbiamo dentro senti dopo di te ci sarà Sergio Rizzo ed è sostanzialmente un ragionamento in continuità scritto un libro che si chiama La Repubblica dei Brocchi il declino della classe dirigente italiana tu vedi siccome stiamo cercando disperatamente dei chiodi tu vedi un chiodo a cui attaccare la speranza che ci sia qualche leader in Italia o nel mondo che vedi qualcuno facci un nome sforzati facci un nome dunque allora l'ultimo leader di cui ho avuto stima e che è andato via perché ha perso le elezioni non era italiano era cronologicamente intendo era Joe Spen di cui poi non si è più sentito dire niente mentre invece non so noi siamo rimasti qui con la sinistra con Petroni che fa i film quell'altro è proprietario di Mezzapuglia insomma cose di questo genere ecco questo per quel che riguarda il bello di oggi di sinistra e destra è che devono essere bandiere da sventolare invece sono bandiere che coprono le facce e non va bene francamente non va bene per nessuno né per gli uni né per gli altri e aggiungo come ultima cosa che io collaboro al Fatto dopo averlo fondato ma anche lì sono ovviamente minori tu lo chiami così mi va bene diciamo elegantemente molto minoritario pur pensando che su tante cose magari hanno ragione però il problema è difficile organizzare culturalmente un paese se non si hanno delle basi e allora dicevo io di figure a cui affidarsi oggi ne vedo poco per questo credo che ognuno debba ricominciare a pensare proprio di cercare dentro se stesso Olivier Robea mio nipote nella giungla leggetevelo grazie di essere stato con noi diamo una mano al picco la pubblicità fra poco buonasera ciao bentornati a Roma incontra ha scritto insieme con Gian Antonio Stella un libro che ha venduto un milione e duecentomila copie e questo mi fa un'invidia pazzesca e si chiamava come immaginate come ricordate la casta adesso ne ha scritto un altro per la verità ne ha scritto diversi nel frattempo ma ne ha scritto un altro che secondo me non so se fra un milione e due ma insomma vi auguro che ci si avvicini quanto meno Sergio Rizzo la Repubblica dei Brocchi eccolo qua ciao allora tu hai scritto hai scritto diversi libri in cui ci hai raccontato la classe dirigente la classe politica poi sei come me un giornalista che viene dal mondo del giornalismo finanziario quindi ci hai raccontato anche gli aspetti economici di questa nostra benedetta società però in questo in questo libro in cui parli del declino della classe dirigente italiana scrivi che i Brocchi si vincono quantomeno in Italia io mi allargherei anche un po' perché vedo che ci sono tanti Brocchi anche altrove perché secondo te prevalgono? ma intanto i Brocchi vincono anche altrove questo è vero però c'è una differenza che altrove tu hai dei si imblocchisce la classe politica come si è visto un po' in tutto il mondo però poi di solito sono paesi solidi quindi pur imbrocchendosi la classe politica il resto rimane in qualche modo che regge la classe dirigente che è quella più larga da noi non è così purtroppo cioè da noi è successo e infatti tutte le volte che c'è un minimo stormil di fronte subito la speculazione tutti preoccupati adesso no se vince no la speculazione già fanno scenari foschi perché? perché non abbiamo un paese solido perché l'Italia è un paese dove nel suo complesso noi siamo considerati inaffidabili e forse lo siamo anche un po' perché è un paese che non ha dove non c'è certezza di arrivare mai in fondo a una cosa cioè il povero giapponese che voleva dare due milioni per restaurare la piramide cestia prima ha dovuto capire di chi era so se è chiaro perché si è scoperto che non sapevano neanche loro di chi fuori cioè lo Stato non sapeva se era suo o del Comune e il Comune non sapeva se era sua o dello Stato hanno passato un anno per capire di chi era la piramide cestia non so se è chiaro e questo già ti fa capire che no arriva uno con due milioni dal Giappone ed ha perseverato alla fine questi due milioni li ha dati è riuscito a darli ma quanti sono scappati o addirittura non ci provano nemmeno senti io tutta questa roba qua che tu hai descritto l'ho chiamata dittatura della mediocrità è una paura fottuta che concorderai ecco annaggia senti ma questa mediocrità imperante la si vede perché noi di solito siamo abituati a parlare della politica e un po' delle amministrazioni però secondo me è una roba che sta dilagando per esempio il mondo delle imprese il mondo economico finanziario che tu conosci non è che i brocchi manchino lì ma io non sapevo che dessero le buone entrate non lo sapevo ho appreso racconta ai nostri ho appreso che sia nelle aziende private che in quelle pubbliche c'era c'era l'abitudine di dare le buone entrate cioè un manager privo di entrare gli danno i soldi dopodiché hanno dato una buona entrata di 3 milioni ad un manager diciamo che è stato presente nelle ferrovie questo dice ma perché gli hanno dato 3 milioni e mezzo di buone entrate perché dice i soldi che avrebbe perso dall'azienda da dove proveniva e uno dice ma perché devo pagare anche lo stipendio cioè gli abbiamo pagato anche lo stipendio dell'azienda da cui proveniva dopodiché questo signore ha lasciato un buco pazzesco perché il buco era mi pare di un miliardo e sei di bilancio e dove è finito è finito a fare il presidente di un'azienda di trasporto municipalizzata che io dico la verità senza nulla togliere le sue capacità che sicuramente avrà attraversato un momento particolare forse le ferrovie in quel momento non erano proprio al massimo della certamente qualcuno avrà anche contribuito a quel risultato però io mi domando ma se tu vieni da un'azienda dove hai lasciato un buco così grosso ma ti prendi a fare lo stesso lavoro nella stessa azienda è un'azienda che fa la stessa attività mi sembra una cosa abbastanza tu stai facendo un esempio di una situazione pubblica ma secondo te il mondo privato noi per esempio la Rizzoli diciamolo con estrema chiarezza abbiamo avuto degli amministratori delegati che hanno preso la buona entrata dopodiché hanno preso la buona entrata hanno comprato la Spagna per esempio e ci hanno lasciato un buco mostruoso e poi hanno preso la buona uscita e poi hanno preso anche la buona uscita quindi da questo punto di vista non è che il mondo privato sia messo meglio attenzione non è messo meglio per una ragione molto semplice perché una volta una volta c'erano le scuole una volta c'erano dei percorsi di formazione che erano importanti c'era la Banca d'Italia c'era se vogliamo anche Liri Romiti che viene descritto ancora oggi come uno dei migliori manager italiani degli anni della seconda metà del secolo scorso sicuramente lui aveva fatto un'importante esperienza nel Liri nelle aziende del Liri abbiamo avuto personaggi formidabili che sono venuti dal Liri basta pensare a Donato Menichella che hanno fatto la classe dirigente basta confrontare la Mediobanca di ieri con quella di ci sono tante possibilità ma quindi come dire è un po' desolante questa roba e tu in più ci metti un altro carico perché dici il problema è che è scomparsa la vergogna che era l'ultimo baluardo che poteva esserci per cui come dire è scomparsa quella a quel punto la deresponsabilizzazione è generalizzata la vergogna come si è cancellata diciamo perché c'è stata una rimozione collettiva perché i giornali non hanno fatto il loro dovere perché sono tante ragioni però quella fondamentale è secondo me il fatto che è l'impunità nel senso che l'impunità di per sé è un elemento che fa venire meno il senso della vergogna se io so che quello che io la cattivazione che sto commettendo non comporterà né una sanzione diciamo economica né una sanzione diciamo di tipo carcerario né una sanzione sociale né tantomeno una sanzione sociale a quel punto io perché mi devo vergognare è molto più facile invece provare serenità io lì a un certo punto faccio un passaggio dove ricordo che tutti quanti si manifestano sereni no c'è questa serenità che tutti quanti quelli che vengono presi con la mano una marmellata magari fino al gomito dicono ma io sono sereno aspetto serenamente il giudizio dei magistrati e ti credo che l'aspetti serenamente tanto sai che non ti fanno niente è ovvio ma perché tra l'altro tra l'altro perché ci sono dei meccanismi che sono dei meccanismi che nessuno ha mai voluto correggere perché i processi in Italia finiscono tutti con la prescrizione perché da noi la prescrizione scatta decorre dal momento in cui si commette il reato non dal momento in cui si scopre per cui una volta che tu l'hai scoperto cinque anni dopo già cinque anni te li sei giocati e quindi è evidente è naturale che la maggior parte dei reati finiscono nonostante la commissione europea abbia più volte chiesto di modificare questa regola noi non l'abbiamo mai modificata senti ma la magistratura è esente dalla broccheria? guarda la magistratura è forse uno dei diciamo dei settori che più è stato funestato dalla mediocrità io cito un caso un caso che secondo me è un caso clamoroso è quello della strage di Piazza Fontana la strage di Piazza Fontana è che è stato forse il momento in cui è cominciato questo pazzesco declino della classe dirigente prima lentamente poi sempre più rapidamente si è conclusa con 21 condanne definitive gli unici che sono stati condannati per la strage di Piazza Fontana sono 21 cittadini dell'isola del Giglio che un bel giorno dell'agosto del 1976 mettono in mare le loro barchette per impedire al traghetto di attraccare il traghetto doveva portare all'isola del Giglio Fredda e Ventura in soggiorno obbligato perché erano scaduti i termini di carcerazione preventiva e il magistrato aveva pensato bene non ce li volevano esatto aveva pensato bene di mandarli in soggiorno obbligato ad agosto all'isola del Giglio capite? no? tu già da questo avresti dovuto come dire sollevare dei dubbi circa la tenuta psicologica del magistrato perché mandare all'isola del Giglio d'estate in agosto pieno agosto Fredda e Ventura vuol dire che c'è un problema di fondo ma dopo di che questi qui me li condanni per blocco navale condannati in via definitiva non è finita qui perché uno dice vabbè comunque un reato l'avevano commesso ma il colmo è stato alla fine del percorso quando nel 2005 mi sembra che si sia conclusa poi definitivamente la vicenda giudiziaria di Piazza Fontana senza avere scoperto il colpevole cioè quello che aveva messo la bomba hanno condannato i familiari delle vittime a pagare spese processuali allora a quel punto tu hai chiuso il cerchio e dici scusate ma questa è la giustizia di questo paese allora sicuramente depistaggi servizi segreti tutto quello che vogliamo ma vogliamo dire anche che forse non è che questi grandi magistrati abbiano fatto un lavoro spettacolare dobbiamo dirla questa cosa perché se tu mi condanni quelli che mettono in mare la barchetta per fermare il traghetto e poi però non mi prendi quello che ha messo la bomba insomma senti entriamo un po' nel merito della broccagine politica che ci abbiamo sotto gli occhi magari partiamo da Roma così intanto che vogliamo dire di Roma ho visto che il Corriere ha messo un tuo articolo di fondo sulla questione di Roma l'altro giorno in prima pagina quindi sì sì no l'ho proposto io quell'articolo perché penso che sia importante spiegare che cosa sta succedendo e penso che sia importante che le persone ne prendano coscienza ma ne prendano coscienza non soltanto i cittadini anche chi chi governa la città perché non sono non ho non sono proprio convinto che ne abbiano preso coscienza mi spiego se tu vai a Milano oggi no e poi vieni a Roma beh ti piglia un colpo no perché voglio dire uno può anche magari vivendo a Roma certe cose non le note è sporco sì è sempre stato sporco è il confronto il confronto il confronto è micidiale micidiale tra una città europea europea dove funzionano le cose con dei problemi ovviamente ma dove funzionano le cose dove non vedi il centro pieno di questi negozietti orribili pieni di bibite di schifezze che saltano fuori come no come i funghi dove non vedi camion bar dove non vedi pullman che invadono il centro storico vedi dei negozi decenti della gente vestita bene che va a farle compere vedi la galleria piena di persone non non hai diciamo la sensazione di sporcizia incombente ecco dopo di che viene a Roma anzi prendi una metro e vai in 5 minuti in un'altra parte della città e poi viene a Roma e allora a quel punto tu capisci che il confronto è quello che tu devi che ti fa percepire qual è la reale condizione di questa città noi abbiamo una città che è ferma completamente ferma ora si possono avere anche dei dubbi sullo stadio della Roma per carità io li ho espressi anche forse è un'operazione che non andava fatta così l'aveva fatta in altro modo però mi devono spiegare perché la fiera di Roma vecchia sta crollando a pezzi e nessuno fa niente mi devono spiegare perché la metro C la bloccano al Colosseo gli ex mercati generali che sono pronti ad essere fatti mi devono spiegare perché la Tor Vergata sta in quelle condizioni ancora mi devono spiegare un sacco di cose cioè questa è una città che si è completamente fermata completamente fermata ma neanche le cose diciamo più banali la paralisi esatto quindi bisogna che questa cosa cambia perché se no noi non facciamo un metro senti ma domenica c'è il referendum al di là del voto dell'esito è finita ed è definita come una storytelling qualunque la storia di Renzi della rotamazione della nuova generazione che si sostituisce quella vecchia del cambiamento radicale oppure invece pur con qualche inciampo la storia continua ma guarda lo sto dicendo il giorno dopo politicamente se il governo dico proprio la percezione che gli italiani hanno di questo passaggio la percezione è che non c'è alternativa questa è la percezione che non è proprio un massimo della vita assolutamente però attenzione perché io ho sempre pensato che questa è una rotamazione per modo di dire perché bisogna tenere presente che questi Renzi anche Renzi Renzi ha 40 anni 41 che è nel 75 sono troppi per pensare a un cambiamento cioè loro sono i figli di un sistema politico che era il vecchio sistema politico non sono quelli che hanno superato la barriera il confine di quel vecchio sistema politico noi dobbiamo ancora vederlo il cambiamento perché io vedo in tutto questo questi due anni e mezzo nel quale nei quali per carità forse non sono mai state fatte tante cose come in questi due anni e mezzo questo è bene dirlo questo è bene dirlo perché per esempio io le unioni civili le ho viste adesso per esempio io so che Bersani ha ciurlato nel manico con l'iscrizione non si sapeva dove doveva finire il PD se doveva finire nel Partito Socialista Europeo o con qualcun altro è arrivato un ex democristiano e l'è messo nel Partito Socialista Europeo quindi diciamo sono state fatte molte cose non c'è dubbio detto questo si è anche cercato però si è anche sbagliato molto nel senso che si è andato appresso ad una demagogia che a me francamente non è piaciuta io per esempio sostengo che hanno fatto una fesseria gigantesca se ne accorgeranno con la legge sull'abolizione e finanziamento pubblico dei partiti lo dico io che ho scritto la casta hanno sbagliato lì perché devono fare un'altra cosa e poi i rituali i rituali sono gli stessi cioè se tu mi fai la battaglia inizialmente a parole per dire che non devi più avere i parrucconi al governo al Consiglio di Stato tutta la storia che inizialmente era passata dopodiché il tuo capo dell'ufficio legislativo lo mandi al Consiglio di Stato vuol dire che vuol dire che i rituali sono gli stessi dopodiché tu mi critichi il vecchio sistema è in Campania ti allei con un sistema diciamo che più vecchio forse non può essere per carità magari è capacissimo De Luca però quello è stato secondo me un crinale cioè l'alleanza con De Luca da una parte uno direbbe Realpolitik ho capito però allora Realpolitik per Realpolitik è perché non hai mandato D'Alema in Europa così facevi mandaci una cartolina e aveva risolto il problema cioè quella è come hanno fatto con Prodi ineccepibile ineccepibile sicuramente avrebbe fatto miglior figura di quello che c'è sì diciamo tra l'altro poi scusa l'ultima se tu mi dici che fai un governo metà donne e metà uomini non è che dopo quando si dimettono due donne ci metti due uomini io ci metti altre due donne se ci metti due uomini è perché o tu non hai le donne da metterci e che se è un problema ancora più grosso forse oppure perché sotto sotto te ne fregava niente esatto senti ma tu però hai detto che che qualche non brocco diciamo non dico cavallo di razza ma non brocco da qualche parte c'è per esempio dici che Parisi sarebbe un buon cavallo peccato che è stato azzoppato dai brocchi quindi vuol dire che anche quando c'è un non brocco i brocchi prevalgono? certo ma infatti si vede il povero Parisi come lo stanno facendo nero no? cioè è stato prima gli sono saltati addosso tutti quelli che vedevano che potevano perdere un pezzettino di potere anche potere molto e poi addirittura il gran capo non potendo evidentemente scontentare tutti gli altri ha detto io torno torno sulla scena ma è del tutto evidente che Stefano Parisi è l'unico che può rimettere in piedi qualcosa di decente e Dio solo sa quanto noi ne avremmo bisogno perché la democrazia è fatta di pezzi che si devono confrontare fra di loro l'un l'altro no? se tu non ce l'hai l'altro pezzo e poi diventa un problema perché il pezzo che dovrebbe essere da una parte poi diventa una cosa che non si capisce più cos'è come adesso chiaro che noi avremmo tanto da guadagnare ad avere un centro-destra e un centro-sinistra di un altro no? però invece di avere un centro-destra da una parte e un centro-sinistra ce ne abbiamo uno in mezzo che è 5 Stelle adesso al di là di Roma di cui abbiamo già parlato 5 Stelle diciamo tu lo collochi nel broccaggio beh insomma certo che non è che quando uno ti viene a raccontare che in America mettono il microchip sotto la pelle oppure che gli americani non sono mai andati sulla luna oppure che truccano i dati della magnitudo dei terremoti perché così non si ha oppure quando tu c'hai uno che passa per essere il futuro forse presidente del Consiglio che va in televisione a dire che la Costituzione italiana è stata approvata a soffragio universale o un'altra o un'altra che quando te lo nominare il presidente della Repubblica ti dice ma dove sta scritto che devi avere almeno 50 anni beh nella Costituzione e forse magari uno che fa il parlamentare se la dovrebbe dare una letta prima di forse no? a un passato a un passato quindi diciamo non è un problema di broccaggine dei 5 Stelle è un problema che ormai la politica è così cioè una volta in politica andavano i migliori poi è passata l'idea che in politica vanno quelli che manco hanno fatto l'esame di riparazione senti si fa riferimento spesso alla pancia del paese no? Grillo addirittura ha detto votate con la pancia votate con la pancia ecco però tu scrivi nel libro che che la pancia rischia di essere anche un po' vuota perché nel 2000 il pil pro capite di un tedesco era superiore al nostro di 1283 euro oggi è di 8420 cioè 6 volte e mezzo di più di quello che era nel 2000 cioè non cent'anni fa ma pochi anni fa questo vuol dire che anche dal punto di vista economico diciamo le conseguenze dell'essere circondati e guidati da brocchi non sono banali d'altra parte se dal 2008 quando no forse ancora prima il 2000 perché che quella se stica lì sia precedente cioè il punto di partenza dal 2000 ecco beh io in questi 15 anni non è che ho visto un cambiamento della burocrazia per esempio non è che ho visto una società più semplice non è che ho visto come dire un miglioramento delle condizioni di lavoro per i giovani io ho visto che in questi 15 anni abbiamo speso un sacco di soldi per le pensioni adesso con rispetto parlando per gli anziani io ho avuto un'anziana mamma che è venuta a mancare l'anno scorso quindi so bene quando la vita che fanno gli anziani detto questo però non posso non ricordare che noi negli anni che si fanno dal 2001 al 2011 cioè prima della grande sforbiciata di Monti per capirci noi abbiamo speso 62 miliardi in più reali cioè al netto dell'inflazione per le pensioni e abbiamo diminuito di 3 o 4 miliardi l'anno la spesa per l'istruzione cioè questo è un paese che ha investito massicciamente negli anziani e disinvestito dai giovani quindi adesso poi le conseguenze sono quelle il sud è l'unica ripartizione dell'Europa che sta perdendo abitanti e questa cosa qua nessuno ci pone attenzione ma è una cosa gravissima abbiamo in 12 anni sono andati via dal mezzogiorno 175 mila giovani laureati ma ci rendiamo conto dopodiché questo non è che è stato l'ospito santo che ha fatto queste cose sono stati politici sono stati la classe dirigente sono stati gli imprenditori vogliamo dirlo anche che c'è una responsabilità degli imprenditori in tutta questa storia la classe dirigente ci sono anche gli imprenditori non è che senti abbiamo già sforato però io voglio approfittare della tua presenza perché tu sei diciamo famoso per essere capaci di tirar fuori delle storie incredibili che poi puntualmente racconti sul Corriere della Sera qual è quella che ti ha colpito di più ultimamente quella della stazione dell'alta velocità a Firenze o cos'altro e raccontacela in 30 secondi ma ce ne sono certe che sono veramente dicci quella che ti ha scandalizzato di più per esempio ce ne sta una che ancora non abbiamo raccontato che io trovo assolutamente incredibile cioè c'è la vedova di quel signore che è stato ammazzato in Libia sapete si chiama Failla si chiama Failla questo signore che è stato ammazzato in Libia la vedo ha chiesto la pensione che spetta per legge alle vittime del terrorismo e gli hanno detto che non gliel'hanno data perché dice che la documentazione era incompleta adesso io sinceramente faccio fatica a capire quale altra documentazione ci volesse oltre al fatto che il marito era stato ammazzato da quella di Libia certo mi sembra giusto giusto mi sembra giusto che tu lo dica e che tu lo racconti speravo ci raccontassi questa qua dell'alta velocità a Firenze perché ho letto che sono 774 milioni 774 milioni per fare una stazione nuova che non si farà per fare un buco ma siamo specializzati nei buchi perché ne abbiamo spesi 40 una volta per fare la nuova sede del cinema a Venezia però solo peccato che non ci abbiamo messo il palazzo c'è solo il buco 40 milioni va bene grazie di essere stato con noi adesso dopo di te ci sarà ci sarà un esperto di leadership e allora ascoltalo perché magari vediamo se si riesce da un brocco a tirare fuori qualche puro sangue intanto leggetevi la Repubblica dei Brocchi Sergio Rizio grazie di essere stato con noi diamo una mano al piccolo pubblicità tra poco rimanete con noi bentornati a Roma incontra allora è un esperto di leadership e di talento che ha scritto un libro che si chiama il dono dell'imperfezione esplorare i limiti per trovare i talenti per Feltrinelli è Alessandro Chelo benvenuto grazie genovese come me però sta dall'altra sponda calcistica quindi cominciamo male l'ho scoperto stasera ho detto ma se me lo dicevate che era genuano non lo invitavo tanto più dopo il 3-1 sulla Juve ha lavorato nel mondo dello sport a fianco di allenatori come Franco Scoglio a proposito di Genova come Bagnoli quando vinse il Verona lo Scudetto tanti anni fa a fianco a Giampaolo Montali nel Volley collabora con grandi gruppi industriali per la formazione manageriale insomma è un signore che ci sta dicendo che tutto sommato in questo libro ci dice che tutto sommato i nostri difetti le nostre imperfezioni non sono niente di drammatico ma addirittura si potrebbe diciamo considerarlo un punto di forza non è un po' esagerato dire così è rischioso perché ho l'impressione che potrebbe diventare un bel alibi dice vabbè allora mi tengo i miei difetti ciao arrivederci o no sì può diventare un alibi è anche vero però che quando ad esempio facendo proprio formazione manageriale incontro tanti manager in diverse aziende e pongo una domanda cioè chiedo ma chi è che si sente di condividere con i colleghi un caso di successo di un piano volto a per usare il gergo manageriale colmare i gap carenziali delle competenze soft dei collaboratori dicevo di condividere un piano di questo tipo di successo dove effettivamente un collaboratore è cambiato tra virgolette colmando i gap carenziali e quindi carenziali? sì cioè la carenza? cioè le cosiddette aree di miglioramento no? come si dice in gergo e devo dire Mirabella tu carenziale non lo sapevi che esisteva vedi? eh? e non lo sai dire vedi Mirabella abbiamo insegnato qualche cosa pure a lui che è notoriamente la scienza infusa grazie di esserci venuto a trovare allora e vedo che casi di successo non vengono condivisi e allora io mi sono convinto di una cosa che forse è strana per chi fa il mio mestiere che è la seguente le persone non cambiano questo me ne ho accorto anch'io e cioè allora bisogna farsene una ragione però e qui faccio più fatica diciamo i tratti fondamentali del carattere di una persona sono scritti nel suo DNA noi siamo nati e cresciuti in una cultura quella del novecento che invece ci ha detto che derivano dall'inconscio cioè come da bambini la mamma ci parlava del nonno quello per giustificare il mestiere degli psicanalisti insomma o ci hanno detto che deriva dai processi storici in chiave più ipersociologica marziana eccetera e ci si dimentica che esiste il DNA chi in sala ha due figli cresciuti nella stessa famiglia con gli stessi valori lo stesso modello educativo sa perfettamente che le persone possono essere diverse anche vivendo nello stesso ambiente e allora impariamo ad apprezzare la bellezza della differenza e la differenza è fatta di contraddittorietà è fatta di cose belle e cose meno belle e rispetto alle cose meno belle noi possiamo fare tanti predicozzi ai figli ai collaboratori dal punto di vista dell'allenatore ai giocatori tanti predicozzi a botte di dovresti essere più dovresti essere meno e anche qui chi ha un caso di successo alzi la mano e lo condivida sta ammazzando il libero arbitrio però al contrario al contrario le persone non diventano come vorremmo che fossero noi le persone sono come sono e noi abbiamo la chance o di chiedere di fare richieste di cambiamento inutili e illusorie spesso dannose o metterci in esplorazione della bellezza contenuta anche negli aspetti contraddittori però se il mio DNA mi fa nascere in un certo modo il suo DNA l'ha fatto nascere Genuano lei potrebbe avere la voglia di cambiare e diventare Sandoriano no? e invece no perché lei dice ho il DNA e come faccio? a parte che io ripeto adesso è una battuta non se la prendo no no ma le rispondo credo che le richieste di cambiamento restino vane se vuole la prova granitica quella che mi do a me stessa non quella degli altri di diventare Sandoriano quella è proprio la prova granitica ma ci sono tante altre prove che suggeriscono che suggeriscono anche nella vita di coppia io nel libro cito vari ambiti in cui questa cosa possiamo sperimentarla il lavoro la famiglia le amicizie anche nella vita di coppia se c'è un killer delle coppie è l'attesa del cambiamento dell'altro sei sempre il solito non cambi mai si dà il caso che io sia sempre il solito e allora i package o mi ciucci così o ciccia questo è il concetto col mio linguaggio dico la stessa cosa faccio finta di non sentire mia moglie che dice delle cose le persone anche per le persone il package va preso all inclusive e quello che rende solida una relazione non è la richiesta di cambiamento è l'accettazione delle parti che ti piacciono di meno e quando accetti le parti che ti piacciono di meno e inizi a esplorarne la bellezza la relazione può diventare ancora più solida parla sempre del come un altro percepisce cioè come io percepisco lei la voglia di chiedere di cambiare lei mi dice ma perché me lo devi chiedere tanto è ma invece come uno si auto percepisce si guarda allo specchio e dice ma effettivamente ho qualche difetto vorrei cambiarlo questo è dato o non è dato allora dei vari ambiti che esploro appunto nel libro l'ultimo è proprio il rapporto con se stessi cioè questa cosa qui anche perché è solo partendo da sé e dall'esplorazione dei propri limiti della bellezza contenuta nei propri limiti che si impara a farlo anche con gli altri e qui io suggerisco un po' un percorso proprio fatto di tre passaggi ritrovarsi ripensarsi e ripartorirsi dove ritrovarsi significa significa aspetta quelle parti di me che non mi piacciono che mi fanno anche un po' soffrire che mi dicono tutti dovresti essere più dovresti essere tutti o qualcuno dovresti essere più dovresti essere meno e che quindi cerco ora di reprimere ora di cambiare invece sai cosa faccio me le abbraccio fortissime come si abbraccia il figlio difficile quando scopri che forse ha delle risorse questo è il ripensare il ritrovarsi il ripensarsi significa in questa parte di me che abbraccio e che finora ho visto come buia riesco a scorgere della luce qui chiedo un po' un atto di fede io lavorando tanto con tanti gruppi su questi temi testimonio che facendo questo lavoro di esplorazione della luce nelle ombre si hanno illuminazioni straordinarie e toccanti faccio un esempio e nel momento in cui faccio un esempio senza nome e guaglioni nel momento in cui vedi la luce nell'ombra allora puoi immaginare delle un tuo impegno per dare spazio a quella luce e lì è il ripartorirsi ma esempi tantissimi qualcuno che dice sa io sono troppo io sono troppo approssimativo e non sono attento ai dettagli non e allora cerco di cambiare ma poi tant'è se sono sotto stress emerge questa mia parte cosa c'è di bello nella tua approssimazione e niente di bello cosa ci può essere di bello allora lavoro di gruppo cosa ci puoi raccontaci questo tuo personaggio approssimativo e diamogli una mano a capire cosa ci può essere di bello nell'approssimazione beh che si possono risolvere problemi con poche risorse pochi strumenti che si possono risolvere problemi magari temporaneamente ma in tempi molto rapidi che che si sviluppa l'arte che si sviluppa l'arte di sperimentare perché nell'approssimazione c'è anche sperimentazione sto facendo un esempio banale e anche come dire non non emozionalmente importante mi interessava il risultato lei che risultati ha ottenuto che le le hanno dato gratificazione nel lavoro che ha fatto diciamo un esempio di un risultato che di qualcuno che mai si sarebbe sognato di fare una cosa che è proprio di comportarsi in un certo modo insomma mi dica nel suo lavoro che quali sono gli aspetti io ne dico uno volutamente banalissimo per dire che queste luci nelle ombre non devono essere ah ora ho trovato la mia luce faccio far pace a israeliani e palestinesi no no cose e allora magari sempre nel mondo dell'impresa aziendale quel manager che dice io c'ho un mio collaboratore che non si sa auto-organizzare non sa individuare le priorità e quindi si perde in attività inutili e allora questo è uno dei famosi gap da colmare gap carenziari da colmare e quindi è una sua area di miglioramento cosa si può fare perché cambi bene facciamo un bel corso di time management facciamo un bel corso di di pianificazione facciamo un bel corso di project management anzi per dargli forza facciamo anche un corso di sviluppo personale di quelli dove si costruisce la zattera si guada al fiume poi si poi questo qui torna e normalmente è uguale a prima e allora questo dice io non so più cosa fare perché più che questo cosa posso fare e dico ma si tenga in esplorazione poi dopo due mesi mi telefona questo manager mi dice sa è stata solo una questione di switch mentale e ci ho detto ma in questa cosa che ha questa persona qual è la luce beh la luce è che è vero che non si sa auto-organizzare ma è un esecutore di compiti impeccabile e allora sa cosa ho fatto ho premesso che era un esempio banalissimo io tutte le mattine investo 5 minuti 5 mi siedo a fianco a lui e facciamo insieme l'elenco delle cose da fare oggi mi dice questo qui ci crede che se prima 5 minuti prima dell'orario di chiusura era col batch a timbrare ora finché non finisce è l'ultimo uscire ed è il più motivato certo perché anziché fargli una richiesta di cambiamento facendo così gli hai dato una mano a esprimere ciò che sa fare bene è una persona quando può esprimere ciò che sa fare bene ma se vogliamo fare esempi molto più prima con gli altri ospiti si è parlato di personaggi famosi eccetera infatti adesso le vogliamo dire parliamo un po' di leader di leadership quindi di cosa dovrebbe ecco se lei fosse chiamato da Renzi e gli chiedesse senti ma come faccio a far uscire luce dalle mie ombre ammesso che Renzi dica che c'ha delle ombre e e cosa lei cosa gli risponde? allora l'inciso ammesso che Renzi sia consapevole di avere delle ombre potrebbe essere la principale ombra di Renzi e io gli direi la sua inconsapevolezza o sfrontatezza o diamogli il nome che vogliamo io gli direi questa cosa falla ancora di più cioè non ce ne abbiamo già abbastanza? perché perché se peggiora Renzi sapete dove cercare il colpevole perché non c'è quasi non c'è personaggio di successo che non abbia tratti grotteschi della personalità se facciamo i nomi Berlusconi diciamo è benissimo è benissimo ma se tu togli a Silvio Berlusconi questa quasi mi si perdoni distorta percezione di sé non è più Silvio Berlusconi se tu togli a Briatore che non è detto che sarebbe peggio io invece penso che sì io invece penso che al di là delle simpatie politiche o meno per il mondo il fatto che il mondo abbia abbia avuto abbia personaggi comunque del calibro di Silvio Berlusconi che io non ho mai votato ma chi se ne frega di Silvio Berlusconi di Flavio Briatore togli a Briatore l'ossessione per il lusso non è più Flavio Flavio Briatore ma Flavio Briatore è stato forse il più incredibile talent scout italiano nella Formula 1 nel togli a Steve Jobs altro personaggio grottesco che qui mitizziamo ma che aveva tratti grotteschi della personalità notevoli sì e allora se tu a queste se queste persone tu le avessi convinti da piccoli a rinunciare a questi tratti critici della loro personalità e a dire dovresti essere meno e non avrebbero realizzato nel caso di Silvio avremmo perso delle cose in altri casi ma io non sono di questa opinione al di là delle simpatie politiche che possiamo avere non sono di questa opinione se siamo qui se siamo qui in questo momento dobbiamo forse anche a chi sulla televisione ha fatto innovazione senta parliamo di il nostro concittadino Grillo da questo punto di vista quali quali ombre quali luci dovrebbe su cosa dovrebbe lavorare secondo lei è qui ragazzi fa bene di essere fa bene a diciamo a essere quello che è un guitto oppure dovrebbe dare il senso che è più responsabile visto che vorrebbe andare al governo del paese ma ciò che dovrebbe fare possiamo dircelo ma non lo farà ma non torno a dire quindi è bene saperlo le persone crescono intendiamoci ma non cambiano nei loro tratti distintivi e vale per tutti vale anche vale anche lei che difetti ha a parte genuano allora intanto che sono troppo accondiscendente con i sandoriani e va bene e va bene poi allora quando prima facevo l'esempio dell'approssimativo effettivamente io sull'approssimazione la sbadataggine io vi ringrazio veramente tanto che mi avete inviato il voucher per il taxi ma ho sbagliato taxi e l'ho dovuto pagare ok faccio questo esempio tragico per dire detto da un genovese pagato 10 euro di taxi eravamo ancora prima dell'euro che ne ho preso coscienza dico vabbè ma fermati all'euro ti pago fino all'euro scendo e chiamo quella proprio da genovese sentite come gli viene la cadenza genovese dicendo una cosa che dice no perché tariffa fissa non c'è il tassamento ecco quindi quel mondo lì dell'approssimazione della sbadataggine ma ne ho tanti ma voi perché mi vuoi già io ho dei problemi di autostima non mi pare ma comunque secondo lei io invece così a occhio che al di là della squadra di caccia lasciamo da parte che difettuccio ho così giusto per saperlo perché così lo esalto perché lei mi ha detto che lo devo esaltare sento sempre la voce di mia moglie che non mi permetto anche perché anche perché veramente a me non piace ma non mi piace proprio la parola difetti cioè veramente sono parliamo caratteristiche beh ma è diverso parlare di caratteristiche che noi possiamo finalizzare bene o male cioè faccio un esempio un po' da battuta da bar da battuta da bar è questo non possiamo escludere che il macellaio sotto casa mia Jack lo squartatore e il grande chirurgo abbiano la stessa caratteristica e lo stesso talento però l'hanno finalizzato in modo diverso allora il punto non è il difetto autofrustrarci sui nostri difetti il punto è guardare le nostre caratteristiche con benevolenza e provare a finalizzarle nel modo migliore lei si dà i bacini allo specchio proprio no e se c'è oltretutto una cosa che credo un pochino caratterizzi questo libro è proprio che pur trattando in qualche modo di sviluppo personale è molto lontano da tutta la retorica del pensiero positivo del modello vincente di che proprio proprio non mi appartengo allora se vi sentite pieni di difetti leggete questo libro il dono dell'imperfezione anche perché non so se lei lo sa che nel 1987 una signora che si chiamava Rita Levi Montalcini ha scritto elogio dell'imperfezione grazie ad Alessandro Chelo di essere stato con noi grazie Eugenio Scalfari lo ha definito il più importante scrittore italiano ha scritto per Mondadori sogni antichi e moderni è Pietro Citati faccia con tranquillità non si preoccupa certo benvenuto grazie nato a Firenze 86 anni fa giusto? 86 anni fa adolescenza a Torino studia in a Normale di Pisa ha vinto nell'84 il premio strega con la biografia di Tolstoi la sua produzione letteraria è a dir poco imponente e sono celebri soprattutto le sue biografie Goethe, Kafka, Leopardi Torstoi appunto ha scritto e scrive per importanti quotidiani ha scritto per il giorno per la Repubblica ed è tuttora una firma prestigiosa delle pagine culturali del Corriere della Sera quest'ultima opera è un saggio straordinariamente vasto in cui ha raccolto 56 testi suoi testi di letteratura storia filosofia religione arte in parte articoli usciti sul Corriere della Sera in parte altre cose il libro comincia con un testo biblico di Giobbe e finisce parlando di quel grande teologo tedesco che era stato trucidato dai nazisti Bonhoeffer insomma si passa dalla vita alla morte come mai ha fatto questa scelta così complessa facendoci venire anche un po' di complessi a noi ma no io sono curioso mi occupo di tante cose e allora la crudità produce questa quantità di testi poi mi interessa tutto mi interessa l'ebraismo mi interessa il cristianesimo l'islam il medioevo il rinascimento fino soprattutto direi all'ottocento ai grandi scrittori dell'ottocento sono dedicati la maggior parte dei miei libri e del novecento perché due dei libri a cui tengo di più sono uno su Proust e l'altro su Kafka però i suoi studi alla Normale di Pisa fanno pensare ad una diciamo a studi di natura scientifica no la Normale di Pisa è sia letteratura sia di scienza io mi occupavo allora di letteratura italiana e mi sono laureato con un'attesi sul settecento Lombardo e quindi diciamo che ha cominciato fin da presto insomma a occuparsi di di letteratura sì sono sempre occupato di letteratura purtroppo non so far altro ecco ma è vero che negli anni della guerra lei non andò a scuola ma passava ore sì sono bellissimi ore in biblioteca la più bella scuola che abbia fatto perché io viveva Torino Torino era stata bombardata e allora io e la mia famiglia siamo andati in una casa che possediamo nella riviera Ligure di Ponente in un bellissimo antichissimo paese che si chiama Cervo e lì non potevo andare a scuola perché le strade erano mitragliace e allora passai tre anni dal 42 al 45 in casa e non facevo altro che vivere abitare in senso stretto la biblioteca di casa mia c'erano due biblioteche in realtà una era quella della famiglia di mio padre l'altra quella della famiglia di mia madre erano biblioteche molto ricche e io vivevo lì e non facevo altro tutto il giorno che leggere non potevo fare altro e lì ho imparato ha divorato i libri ho divorato i libri ho letto tantissimi c'erano tantissimi dall'antichità classica fino al principio del novecento e in questo caso si può dire che come dire il risvolto della guerra ha avuto un aspetto positivo era molto era molto era molto duro i due migliori amici sono morti fucilati dai tedeschi non si poteva uscire di casa perché c'era sempre il rischio di essere fucilati i tedeschi furono terribili in quel luogo perché poi ha fatto la scelta tra le tante possibili di concentrarsi sulle biografie dei grandi scrittori non sono veramente biografie sono libri perché nelle biografie di solito non si parla dei libri io parlo sempre sia della vita degli scrittori sia dei libri anche con un'introspezione psicologica fisica descrive fisicamente l'espressione del vuoto ci sono sempre ritratti fisici degli scrittori per quanto si possa conoscere di Prusa e di Kafka per esempio si sa moltissimo e mi è piaciuto moltissimo raccontare come erano fatti ci dà qualche frammento di qualcosa che lei ritiene che l'ha colpita di più e che poi ci andiamo a cercare nel libro che vi consiglio vivamente di leggere il libro è un libro insieme di critiche letterarie di storia si parla molto di religione si incomincia con un libro religioso con uno dei libri dell'antico testamento e forse il più inquietante di tutti Giobbe il libro di Giobbe San Gerolamo diceva che il libro di Giobbe era come un'anguilla fuggiva tra le mani non si poteva capire quello che voleva dire e aveva perfettamente ragione perché Giobbe viene provato da Dio anzi da Satana che in Giobbe è il collaboratore di Dio quello che attua la volontà di Dio in terra poi la figura di Satana muterà e diventerà il male viene dunque provato e accetta le prove non si ribella non si rifiuta solo che a un certo punto si ribella e accusa Dio con un'estrema violenza feroce raccogliendo tutte le cose che gli uomini nel corso della storia hanno mai detto contro Dio Dio ascolta e non Giobbe aveva detto che Dio non era giusto questa era la sua accusa ma Dio non difende la propria giustizia Dio non dice affatto di essere giusto fa un'altra cosa racconta soltanto come ha creato il mondo Giobbe non negava che Dio avesse creato il mondo negava che fosse giusto Dio non gli risponde il libro finisce così senza che la giustizia di Dio sia stata riconosciuta è un libro terribile e perché ha fatto la scelta di aprire questo libro è il libro più inquietante della Bibbia però il libro è dedicato ai sogni il libro non è dedicato ai sogni nel libro si è il titolo nel libro c'è un saggio sui sogni dell'antichità classica dei greci in particolare greci e moderni particolarmente ai sogni analizzati da Freud e il libro di Freud sui sogni fu pubblicato alla fine dell'ottocento esattamente nel 1899 l'ottocento finì con questa grandiosa interpretazione dei sogni il libro di Freud è molto complicato da un lato bisogna leggere le citazioni cita sempre degli scrittori antichi Sofocle Virgilio e queste citazioni mettono in luce il carattere tremendo divino dei sogni ma il libro di Freud non segue questo aspetto il libro di Freud analizza i sogni e ridivide infinite piccole parti in tante tarsie e interpreta queste tarsie questo è quello che Freud ha insegnato al nostro secolo di interpretare i sogni e in generale l'inconscio come fosse un seguito di tanti piccoli eventi che sono tutti spiegabili Freud in questo modo razionalizza l'inconscio al contrario di lui Proust e Kafka fanno rivivere l'inconscio con occhi inconsci lasciano vivere l'inconscio com'è ma nel libro lei tende a dire che la rappresentazione greca quindi antica del sogno era molto più vasta molto più libera molto più articolata di quella che invece i psicologi moderni hanno un po' schematizzato resa arida era più vasta quella di antica era più vasta dei Freud e degli allievi ma perché è cambiato il sogno o è cambiato il modo di interpretarlo è cambiato certamente il modo di interpretarli ma non è detto che le interpretazioni di Freud e i sogni siano quelle giuste infatti i grandi scrittori del secolo passato cercano di non di razionalizzare il sogno ma di parlare del sogno e dell'inconscio lasciando lo sogno inconscio difendono l'inconscio contro Freud questo è forse il momento più importante della letteratura del secolo scorso lei in questa partita personalmente io sono una parte di Proust e di Kafka non di Freud anche se l'introduzione dei sogni è un libro meraviglioso l'analisi dei sogni ricondurre i sogni e gli eventi dividerli in tanti parti è una cosa assolutamente grandiosa e il sogno nella letteratura invece il sogno nella letteratura è sempre stato un'altra cosa non è stato Freud la letteratura ha cercato sempre di raccontare il sogno lasciando lo sogno di parlare dell'inconscio lasciando l'inconscio e questa è stata una cosa grandiosa che attraversa tutta la letteratura da Sofocle fino a Kafka e invece c'è qualche scrittore contemporaneo che si è avvicinato a questa tematica e che ha detto qualcosa di rilevante rispetto a beh intanto Pruska e Kafka sono scrittori del novecento in Italia chi ha parlato con più grandezza e spirito visionario dei sogni è stato credo Carlo Emilio Gadda che aveva una conoscenza dell'inconscio tanto tremenda quanto analitica il pasticciaccio e la condizione del dolore sono libri attraversati dai sogni dominati dai sogni senta perché ha scelto poi di concludere il libro con questa storia di questo teologico Bonhoeffer è stato credo il più grande spirito religioso del secolo scorso e ha cercato in Dio Dio ciò che non è così comune perché tutti quanti tendono a trasformare Dio in una cosa umana Dio si era incarnato eppure era restato Dio e Bonhoeffer cerca in Gesù appunto Dio la cosa poi è terribile della sua vita era il principale teologo luterano e anche del del secolo scorso e fu imprigionato e dalla Gestapo da Hitler era Hitler che voleva la sua morte personalmente e fu chiuso in carcere poi portato in campo di concentramento e poi proprio mentre Hitler stava cadendo nell'aprile del 1945 fu portato nel sud della Germania e lì impiccato all'alba del 9 marzo non sappiamo nulla dell'ultimo momento della sua vita sappiamo soltanto che il giorno prima egli aveva incontrato in carcere varie persone tra cui un cugino di Molotov il famoso statista sovietico e poi sulla fine cosa si è accaduto alla fine non sappiamo niente sappiamo soltanto che fu impiccato cosa insegna questa storia e diciamo siccome nel libro il sogno ha a che fare tanto con la vita quanto con la morte in questo caso diciamo il sogno è equidistante dalla vita e dalla morte cioè riguarda tutte e due le cose o c'è una prevalenza dell'uno sull'altro no non c'è una prevalenza dell'uno sull'altro ma qui più che di sogno si parla di religione Bonhoeffer era un grandissimo spirito religioso e malgrado che gli sia stato ucciso la sua vita dimostra l'infinita importanza della religione rispetto a qualsiasi altro valore umano la politica e anche la letteratura lei scrive che Socrate ricorda che Socrate dice che bisogna prendersi cura dell'anima più di un'altra cosa quindi secondo questo concetto l'anima è il vero io di ciascuno di noi? è l'io superiore è l'io superiore l'io invisibile e l'invisibile che tuttavia diventa continuamente visibile questo si vede soprattutto nella rivelazione ermetica che è una rivelazione che attraversa il pensiero greco e giunge fino al rinascimento e a Goethe e nella rivelazione ermetica c'è questo contrasto da un lato Dio è trascendente è assoluto al di fuori del tempo al di fuori dell'umanità eppure questo Dio assoluto si presenta si afferma continuamente nella storia nel tempo è assoluto è relativo concreto storico ciò ricorda una grande esperienza cinese il taoismo dove Dio è appunto tanto assoluto quanto relativo nel libro lei passa dalla magia del Giappone del ventesimo secolo per esempio scrive dove l'amore era l'arte suprema così come praticare l'eros senza parlarne o sfiorandolo appena con le parole alla brutalità estrema dei vichinghi di cui racconta essere navigatori guerrieri mercanti crudeli eccetera sì ma erano anche erano grandi neveditori scopritori sono loro sicuramente che hanno scoperto l'America non Cristoforo Colombo ma come il mio concittadino Cristoforo Colombo l'abbiamo ammazzato anche io sono concittadino di Cristoforo Colombo perché sono Ligure lei però è nata a Firenze beh per caso sono due ma perché ho visto scritto da qualche parte che lei non gli piace essere nata a Firenze ma no non è che non mi piace sono stato due anni a Firenze e non avevo il minimo ricordo da bambino si sente Ligure ma Ligure perché mia madre Ligure e mio padre Ligure e quindi allora il nostro concittadino o corregionale non ha scoperto lui l'America? no non ha scoperto i vichinghi molti secoli prima di lui probabilmente nel decimo o un decimo secolo erano dei grandi navigatori e la cosa bella dei vichinghi sono le chiese che sono tutte chiese di legno senza finestre e nelle chiese vichinghi c'era l'assoluta tenebra e diciamo quale valore culturale ha questa storia dei vichinghi? eh beh sono è un popolo straordinario tanto interessato alla realtà i loro viaggi marini quanti interessati ai segreti di Dio poi si trasformano e diventano cristiani ma anche diventando cristiani conservano la loro fede di vichinghi e perché in un libro in cui lei racconta questo poi c'è anche il Giappone cioè questo è questo viaggiare lungo la storia si viaggia attraverso tutto il tempo si trabbiaggia attraverso la storia poi ci parla di il più grande romanzo orientale che è di una donna la Murasaki nel Giappone le donne scrivevano erano loro soltanto letterate mai gli uomini e questo è un bellissimo romanzo che purtroppo in italiano è stato tradotto male? semplificato no tagliato ridotto la metà della sua mole e per leggerlo bisogna leggerlo in inglese o in francese bisogna leggerlo in quelle lingue perché la traduzione italiana lei come l'ha letto? l'ho letto sia in inglese che in francese giusto per non farsi mancare niente ci vai che si mancherebbe e beh ma sono diverse molto le traduzioni e poi l'ha letto anche quella in italiano per vedere la differenza quella italiana è un puro disastro in inglese non si chiama si chiama storia della pietra senta parliamo un po' di lei ho detto presentandola che Scalfari l'ha definita il più importante scrittore italiano Gian Antonio Stella l'ha definita un intellettuale onnivoro beh si mangio molto libri veramente libri quanti libri ha letto? ha fatto un calcolo? moltissimi moltissimi ve leggo sempre non faccio altro che leggere lei come si organizza ci racconti come si organizza la giornata perché sono curioso la mattina mi alza e comincia a leggere poi a un certo punto quando ho letto abbastanza intorno all'argomento scrive sempre la mattina scrivo soltanto la mattina sono capaci di scrivere soltanto la mattina non al pomeriggio al pomeriggio non posso scrivere e allora ha i libri legge nel senso materiale termine o va anche a guardarli quelli elettronici no elettronici no le leggo ho bisogno di tastare i libri di fare dei segni cioè lei c'ha un rapporto fisico con i libri molto molto fisico credo che per leggere bisogna avere un rapporto fisico con i libri anche orgasmico diciamo così beh bisogna avere amarli molto e e quando scrive scrive come? a penna con la biro rigorosamente poi correggo e poi batto la macchina e poi computer no eh computer non so cosa sia ignoro completamente il computer sono molto più contento di adoperare una penna biro e lei quindi non pensa di perdere qualcosa non conoscendo no no non credo cosa perdo? no no io lo chiedo non credo seta e su cosa sta lavorando adesso? adesso non faccio più libri perché sono troppo vecchi ne ho fatti troppi ne ho fatto una ventina e scrivo articoli e in questo momento ne ho fatto uno l'ultimo che ho fatto è nasce dalla lettura di 200 pagine inedite di Federico Fellini tutte su Venezia Fellini ha appuntato moltissime cose sul suo rapporto con Venezia è una cosa bellissima e io ho raccontato appunto cosa era Venezia per Fellini ma questo è destinato ad essere un articolo? essere un articolo anche se il materiale è sconosciuto perché nessuno ha mai letto le cose che ho letto nessuno non l'ha mai letto è un topo di biblioteca ma l'hanno dato non di biblioteca ma l'hanno dato senta la settimana scorsa è scomparso Vittorio Sermonti che cosa era un buon traduttore un ottimo traduttore e un buon commentatore di Dante non è che si proprio eh senta ma lei ha tre nipoti giusto? sì sono sette anni sono tre gemelli c'è qualcuno c'è qualcuno dei tre che ha la stessa tendenza no 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 non hanno non hanno non interessa affatto neanche leggere e quando lei li vede usare i vari ah loro li salutano molto meglio di me no questo pare di capire che lei non li usa proprio ecco ma lei si è fatto un'idea di quale di quale Italia sarà con queste nuove generazioni e cosa gli lasciamo non lo so cosa non li lasciamo beh io credo che gli lasciamo una montagna di libri sì ma sì no ma se non li leggono però anche anche beh loro non leggono ci saranno altri che leggeranno io credo che il mondo moderno sia molto migliore di quando lo rappresentiamo è molto più colto civile tollerante teniamo conto che di fatto non conosciamo guerra dal 1945 o le guerre sono venute soltanto specialmente nel mondo in occidente diciamo in occidente non conosciamo guerra è straordinario questo 70 anni senza guerra non è mai caduto nella storia d'Europa nei Balcani qualcosa ci sta nei Balcani qualcosa ci sta ma nell'Europa occidentale no e se lei visto che abbiamo parlato di sogni dovesse sognare qualcosa per per se stesso per l'Italia che cosa sognerebbe i miei sogni non sono mai non sono molto intelligenti sono piuttosto stupidi sono tutti sogni comici farseschi sono tutti sogni farseschi non so fare altro che sogni farseschi e come mai secondo me si è dato una spiegazione non lo so non lo so ha interrogato qualche sarà un buffone qualche freude no di solito è così non lo so forse per compensazione di quello che accade nella vita reale può darsi senta io la terei qui a raccontarci quello attingere alla sua scienza per ore e ore ma purtroppo abbiamo abbiamo già sforato quindi non mi rimane che ai nostri amici di suggerire questa lettura non fatevi spaventare perché è un libro che è godibilissimo sogni antichi e moderni di Mondadori e a lei di ringraziarla di esserci venuto a trovare e di averci regalato uno spazio di cultura di cui uno spazio di cultura di cui sentiamo molto il bisogno grazie a Piero Citati e grazie a voi che ci avete seguito fin qui ci vediamo la settimana prossima che sarà il lunedì dopo il referendum arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.